Ho appena comprato le blatte, mi fanno stra senso ragazzi, sto già facendo fatica io a tenerle così in mano, anche se sono chiuse e tutto. La mia paura è che quando farò lo scherzo a sespo, escano da questa scatoletta e vadano in giro per la macchina. E poi nessuno, perché non solo loro, ma io non riuscirei mai a prenderle in mano, resteranno lì a vita e non entrerò più in macchina probabilmente. Ovviamente è finito lo scherzo e il video, non le potrò lasciare in giro, quindi dovrò trovare anche qualcuno a cui regalarle. Chi se ne piglia? E' super curioso, lascia le stare, fai schifo! Ho comprato questa bacinella in modo tale che le metterò tutte lì dentro, con una pellicola qua sopra farò un buco in modo tale da poter infilare la mano. Start attack, spostati proprio. Facciamo entrare questo schifo lì dentro, dai vai giù. Oddio, che schifo! Oddio non ce la faccio, non ce la faccio giuro. Messe tutte e quattro sembrano abbastanza tranquille, quindi muoviamoci e chiudiamo tutto. Ok ragazzi tutto pronto, l'ho lasciato un po' qua aperto così prendono un po' d'aria. Ci siamo. Ragazzi allora qui ho le blatte. Sono tutte qua dentro. Tra poco arriverà Sespo, quindi io ora nascondo queste nel bagagliaio e quando arriverà lo farò bendare e dopodiché le farò infilare la mano qua dentro da bendato. Anche perché se non glielo faccio fare da bendato non lo farà mai credo. Che schifo. E' te la mia sorpresa? Sì. Che culo. No, lui è Mattia. Bella Matti, piacere. Piacere. Ah bella, sta telecamera. No, no, non dobbiamo andare, dobbiamo stare qua. Non te lascia la cintura. Ah bella, mi metti la cintura nel dubbio. Mi metti paura? Mi metti paura, vero? No, no. Fermo un attimo, non lo faccio. Se non dobbiamo andare sta così. No, ho paura che mi metti paura. No, no, tranquillo frate. No, dai. Frate, se mi metti paura ti sbrocco, già te lo dico eh. Mi giuri che non ho paura, che non mi metti paura? Ti giuro che non ti metto paura. Non mette paura? Non ti giuro. Frate, io lo so che stai, mi stai messo a piedi. Dai, mi giuri che non mi metti paura? Te lo giuro, te lo giuro. Frate, se mi metti paura giuro di me, non ti parlo più. Io per te ho preso dei regali. Ok, grazie. Però, cioè non è che te li do così, te li devi meritare. Quindi, io adesso ti bendo e devi capire cosa sono. Ok. E sei indovinato da te. No, frate, mi metti paura, non so, stupido. Dai, no, no, no. No, tranquillo. Allora, ok, però mi devi solo promettere una cosa. Anzi, due cose. Te lo giuro eh. C'è un serpente? No, non c'è un serpente. Sicuro? Te lo giuro. Me lo giuri? Oh no, frate. No, non stai a giocare. C'è un ragno? No, non c'è. Se dove cazzo prendo un ragno? È legale in Italia. Non ci sta un serpente? No, no, no. Me lo giuri? Me lo giuri? No, va bene. Te lo giuri. La maschera ti? No. No, frate, me lo giuri? No, perché ridi? Fa pure caldo. Questa, questa è il filestrino? No, frate, me lo giuri veramente? Non c'è nessun animale? Te lo giuro. C'è qualche animale? Non c'è nessun animale. C'è un animale? C'è il pepito? Eh, il pepito. Dai, te lo giuri, c'è un animale. No, non c'è un animale, frate. Te lo giuro. Sì o no? Promesso? Promesso? Dammi le mani. No. Tiè, 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 tiè. Giuro. Toccala. Che cos'è? È easy. Droga. No. È una busta. No, è carte, carte fighe. Lamin cards, carte. Ok, perfetto. Questo è indovinato. Puoi sbendarti. Questo è tuo. Oh, spacchettiamo. Vediamo. Se troviamo una carta che costa un K, che fai? Dai tieni, regalo e regalo. Ti immagini, mi uccidi? Non ne conosco. Ah, questo lo conosco. Eh no, ma devi andare a vedere. Questo lo conosco. È questa, è la speciale. Questa costa? È questo. È questo. Ora, questo qua è raro. Eh sì, eh sì, brate. Scriveteci nei commenti quanto vale. Questo secondo me è un botto. Secondo regalo? Oh, no, no, ha paura. Ti mentiti. No, aspetta. No, giuro, giuro, non fa paura. Ok, non respira. È un portachiavi. Easy. Ok, ti ho. Ho rinato? Sì, ho indovinato. Divegete. Bello, bello. Mi piace. Aspetta. Non ho le chiave di casa. Sono uscito senza chiave. Non sto scherzando. Poi li metto. 8 euro. Budget del video, ragazzi. Quindi iscrivetevi al canale e dateci il link paypal nella descrizione. Grazie. Grazie. Tu ridi, frate. Mi sono venuti. Riguardo, no, dici, guardate il video fino alla fine. Allora, se vedete pubblicità non le schippate, grazie. No, frate, ha paura, però. No, no, tranquillo. Frate, lo so che alla fine mi mancerai tipo... No, un serpente. In macchina? Ma sei scemo? Frate, un serpente. Ma questo si sbusta. Che c'è dentro? Non può esserci un animale se si sbusta, no? Che ne sai? Magari... Non mi devi toccare, però. Eh, frate... Ok, allora lo stai toccando a te, quindi non ti fa paura. No, no. Ok, io non ho paura. Questo è il suo ruggito. Questo è il berzo che fa. Allora, dammi la mano. No. Eh, no. Di... Ok, vai. No, 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 io non infilo dentro cose. No, frate, no, no, non sono stupido. No, frate, non so stupido. Non sono stupido, no, no. Non lo faccio, c'è un animale. C'è, per esempio, un animale. Io non lo faccio. Non lo faccio. Ma non c'è un animale, frate. Mi giuro che non c'è un animale. Te lo giuro. Ok, allora adesso tiro fuori l'occhio. Se c'è un animale... Se non c'è un animale, io faccio un regalo a te. Se c'è un animale... Oh, quindi, allora, se ti mi hai fatto un regalo ed è un regalo, io adesso mi sbendo, vedo quel regalo, non prendo il regalo e ti faccio quel regalo a te. Quello che vuoi adesso. No, ma io ci ho messo un botto a fare questo regalo. No, perché è un animale, frate, io ho paura degli animali. No, frate, ho paura degli animali. Soprattutto se non li vedo. Non sto scherzando. No, frate, non è un animale, tranquillo. No, frate, è un animale. No, frate, te lo giuro, per favore. Mi calco sotto. Frate, perché è un animale soft. Però è comunque un animale. Cioè, te non puoi farmi queste cose. Oh, vieni, ci vediamo fuori dal metro, perché... E poi mi dai un portachiave e poi mi fai toccare la merda. No, frate, io non lo faccio. No, frate, per favore. Facciamo pinta. No, faccio... Ma che faccio? No, frate, io non lo faccio. No, io ho paura. Te lo giuro. No, te lo giuro io, ho paura. Ehi, 118, mi hanno rapito. Allora, fermo, dov'è la tua mano? La mia mano è qua. No, frate, no, no, non lo prendo. Perché? Non lo prendo, ho paura. Te lo giuro, ho paura. Frate, per favore. No, no. No, hai tolto. No, frate, tranquillo, tranquillo. Non ha nessun animale, te lo giuro. Ma che è? No, regà. Ma che è? No, si deve voler far mettere la blattera. Non lo stai giocao. Ma... No, frate, io sto per morire. No, però, metti la mano. Non lo metterò mai in mano, neanche se mi paghi, per tutto l'ora del mondo, ma... Dove l'hai presi? Nel negozio. Cioè, tu sei andato in un negozio per comprare questi? Sì. Si sta ingroppando quell'altro. Stanno, palesemente... Non sto scherzando. Se la sta ingroppando? No, frate, ma stai... Ma che animale è? No, paura, tieni. Mi fa schifo. No, no, frate. No, 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 frate. Ma gli promessi che non c'erano animali. Ok, 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 no, 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 le chiudo, le chiudo, le chiudo, le chiude. Ma che sbocco, frate, no, dai. Ma meno male che sono un tuo fan. Meno male che ti guardo i video. Mi sei ribendato, non mi piace. Vai, ribendati. Stai andando a sboccare. Questo è un regalo per farmi perdonare per il cattivo scherzo che tu ho appena fatto. È gigantesco. No, frate, ha paura. No, perché è più grande vuol dire che è un altro animale. No, frate, io non ci casco. Non ci casco. No, che non vengo più là, perché me lo... No, frate, te lo giuro, mi... No, frate, questo è davvero... No, frate, pure prima mi hai detto che non c'erano animali, me l'avevi promesso. No, frate. Cosa lo togli? No, frate. No, frate, dove vai? No, frate. Allora, te lo appoggio direttamente così. Occhio dove metti le mani perché c'è... No, no, scherzo, 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 devi indovinare che cos'è. Che ha nel volto a stomaco, te lo giuro, proprio perché non vedo la situazione, quindi non capisco che sta succedendo. L'hai fatto personalizzato in vacanza. Ah, il Funko Pop. Ok. E poi è così grande. Però è gigante. Porca puttana, scusate. Mamma mia, è gigantesco. Ecco perché si vedeva, fighissimo, fighissimo, fighissimo. Bello, eh? Ma questo è fighissimo. Questo è considerato un animale. No. Un alieno? Montesi, un alieno. Aspetta un attimo, mi devo ancora riprendere dalle blatte. Figo, grande, complimenti. Questa dove la mettiamo? A casa. Questa dove la mettiamo? Questa dove la mettiamo?